Il mio cuore è sognato di te, si potrebbe vicino, sempre solo per te, mentre in te ci vediamo, non sarò di solo un po' di più, non avete la testa oggi? Ma sai che io al limone ho inventato il caffè cuore, come si dice questa cosa? Si, si è inventato. Alla Cine Porno Forum siamo alla seconda edizione. Il Cine Porno Forum è una delle serate con cui il teatro in Arabato ha iniziato a continuare la programmazione. Quest'anno abbiamo una nuova tematica generale, che è quella delle vostre proposte. Nel senso, l'anno scorso abbiamo fatto un escursus nella pornografia vedendo tanti frangenti, quindi ogni serata c'era una tematica, si sviluppava com'è l'immaginario del porno e ci si confrontava su quello. Quest'anno abbiamo cercato, diciamo, di raccogliere materiale direttamente dal pubblico, nel senso, quindi materiale sia prodotto direttamente dal pubblico che materiale trovato dal pubblico. E quindi questa sera inauguriamo con questa nuova serie, con il film La stanza di Amalia, di Ludovico Lanni, che è qui presente, qui è un regista. Sei un genio! Quindi la tematica che tratteremo questa sera sarà più legata, diciamo, alla sessualità durante la gravidanza. Genio! Ora, io... Bravo! Una tematica geniale! Ludovico Lanni, sei un genio, ho deciso questa cosa questa sera, io... E se la dico io, guarda... Io non l'ho fatto nella regia... Non è vero, non è una cosa preparata. Non me ne frega, ho fatto 120 km per dirlo. Allora... Ehm... Niente, quindi... C'è anche l'attrice, c'è anche l'attrice. Chiara, forse è interessante, di solito, è interessante l'attrice. Allora, ci sarà la proiezione... Ci sarà la proiezione, dopodiché partirà il dibattito, è buono, grazie. Come è andata? No, va bene, va bene, va bene, va bene. Com'è, com'è andata il film? Io l'ho trovato un po' macchinoso. No, da tanto che non lo vedevo. Il suono un po' da vedere, ci sono un po' di cose... Certe cose che non ho troppo tardi. Però, vabbè, io sono qui dentro. Con voi? Qualcuno ce la durò. No, perché la conseguenza è il sesso, e allora è un figlio. No, ma il sesso ce n'era... Non c'era? Non era il sesso, non si vedeva. Ecco, cosa c'era? C'erano tante parole, ma poco sesso. Che rimasto del re delusa. Sì, sicuramente delusa. No, cose più estreme. Poi arriveremo anche al film proposto da te. Fra un po' ci sarà una seconda parte con il film proposto da Alessandra Cervus. No, ma io ho dei problemi già... C'è un bambino che nasce e si mangia del sesso. Sì, però non si è visto. C'è un cameo, proprio una cosa... C'è ancora molta paura, forse. E non lo so, tante parole, tanta filosofia. Io ho trovato un testo bellissimo. Che fossero delle bellissime parole. Il testo, tra l'altro, sono scritti che non avevano la finalità del film. Cioè, sono scritti durante i nove mesi, scritti da me, scritti da lui. Su quello che è stato un po'... Cioè, anche il travaglio, a prescindere da... Io volevo dire una cosa. Cioè, nel senso che, rispetto all'idea che ha... A quello che appena ha detto Alessandra, io invece ho fatto una riflessione opposta. Perché a me quello che ha suscitato è stato di più c'è il sesso durante la gravidanza, così come c'è il sesso anche in momenti di disagio. Per cui il sesso non è sempre piacere, nel senso. Però c'è sempre il sesso, anche quando non c'è piacere. Ci sono dei momenti in cui non c'è piacere, in cui però c'è sesso, nel senso. E questo film ha fatto riflettere su questo aspetto qua. Ah sì, beh, è una funzione vitale il sesso, non il piacere. Possiamo... Non possiamo forse non far sesso. Ma possiamo vivere una vita senza piacere, senza il bere, senza un giro, anche quando... Viste lui che è andata in... Tutta quella... No, però, cioè... La sessualità della madre a volte viene negata, così come quella del bambino inizio a fine ottocento. Sì, più che all'inizio in realtà, forse danneggia molto il dopo. Cioè, più che rimane incinta alla Madonna, perché stiamo parlando della Madonna, no? Cioè, del fatto che lei rimane incinta senza sesso, quindi fondamentalmente il sesso non serve, cioè non ha servito per Cristo, perché lei è rimasta incinta senza sesso. Anche se c'è il tocco dello Spirito Santo, c'è comunque un tocco. C'è comunque un tocco. Nell'immaginario collettivo, in effetti una donna incinta è veramente una cosa... Una donna incinta è veramente una cosa... Sì, è quasi nella forza. ...dalla propria compagna, dalla madre del proprio figlio. Quindi poi la sua vita sessuale si è sviluppata in un'altra direzione. Ah, poi mi si è divertito a un certo punto. Ad un certo punto è iniziato a divertirsi, però comunque... Siamo scissi. Ci ricorda che siamo scissi. Quando poi c'è la sessualizzazione della donna incinta diventa per la morale, diventa perversione. Se uno ha un desiderio sessuale rispetto alla donna, in gravidanza è un perverso, perché lei in qualche modo... A proposito di perversione io vorrei sentire... E questo è un assurdo. ...del dottor... ...del dottor Giordi qua presente, che è una psicanatematica, ma da un'altra prospettiva. La tematica di stasera, come sappiamo tutti, è una conata concezione, quindi quello che ha proposto, l'Alessandra è... ...un cuore immacolato. Ma c'è quel testo? No, c'è quel testo? C'è quel testo? C'è quel testo? C'è anche se vuoi. La mia grande cultura biblica. Io vorrei dire, signoretta, mi prendi un attimo a questo punto, per essere sottile. Bene. Va bene. Non c'è il testo? Non so, non è che sembrava anche una sensazione, ma da un meno un corso. Un corso. Non direi c'è la sensazione. Ah, perché? Non ti sa, non ti fa il po' No, 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 no. Sì, la mia c'è la c'è la c'è la muschia, il cuore immacolato. Arrivo. Vedo che qualcuno già se ne ha andato, quindi pochi eletti, questa è una cosa molto buona. e aspettiamo che Silvia, la nostra, elemento del direttivo del teatro Garabato, che appena arriverà, appraudiremo tutti, il lavoro che fa vero il nostro spazio, che è tanto, grande, Silvia Fabrizio Fabrizio Mi sembra che ci sia una scelta mirata, nel senso che ho visto una cosa simile in entrambi i film che ho visto questa sera, nel senso che mi sembrava che entrambi facessero un percorso, uno verso la nascita di un bambino, l'altro verso l'orcasmo, nel senso in entrambi ho visto qualcosa sempre di ascetico, nel senso che c'era sempre l'ascesi in questo e quindi nel senso anche l'elemento della religione, visto che oggi festeggiamo l'immaturata l'inuncezione e l'applauso da Madonna! Esatto! L'ottima è la data! L'ottima è la data! Io quello che è esatto! Perché lo spirito santo potente è l'ottima Scusate, è l'ottima Scusate, c'è l'ottima Scusate, c'è l'ottima Scusate, c'è l'ottima Scusate, quello che mi ha fatto riflettere personalmente, nel senso entrambi i film, io sto lanciando la mia, giusto per poi, e appunto c'è sempre un elemento di ascese sia nella nascita di un bambino che anche nell'orgasmo, nel senso che c'è comunque il corpo che viene accompagnato in questa cosa e quindi nel senso perché abbiamo fatto questa tematica noi questa sera ce l'abbiamo scelto questa tematica perché mi sembra che in realtà sia anche centrale molto spesso nel immaginario comune nel senso che la donna è molto spesso senza che ce ne sia renda conto nel senso ma poi nei fatti arriva magari molto spesso quella cosa che è o puttana o santa nel senso che c'è questa e la donna stessa si incasena molto spesso o in un ruolo o nell'altro nel senso in base a quello che richiede il periodo eccetera in questo io vedo un po' un controllo culturale eccetera e quindi entrambi questi film hanno un po' suscitato questa riflessione ma ecco vorrei anche chiedere a parte vostra se c'è qualche impressione qualche impressione la sessualità ma a livello cinematografico stava lì a presentare una luce dentro la vagina dentro questo percorso di escesi dentro l'orgasmo cioè c'era una volontà di questo tipo beh io credo che fosse un riferimento diciamo non so è è un origine il cielo pasquale è un simbolo fallico che viene nel mondo antico anche anche no per esempio cioè a me ha citato cosa che l'altro film non mi aveva fatto perché sei un maschio cioè se uno prende una donna appetibile la fai scopare esattamente come la cinematografia pornografica riesce a raggiungere il pubblico maschile non si è differenziato da nessun film pornografico che io abbia mai visto cioè una donna bella che si masturba il fatto che abbia una corona da madonna in testa non ha fatto alcuna differenza cioè nel senso il discorso è questo cioè tu dici io non riesco a empatizzare e vedo soltanto dei particolari è vero magari quello tu li noti perché non sono stati fatti bene per arrivare anche a te no no anzi secondo me perché aveva la pretesa di essere troppo sofisticato perché in realtà io faccio un casino di porno però c'è il torno quello normale non d'autore è molto più semplice anche tecnicamente non so che tipo di porno guardi su ma la maggior parte di porno mainstream sono tutti montati le scene che tu pensi sono ipernaturali sono incredibilmente costruite ma c'è un montaggio sì ma c'è un montaggio molto più più fluido e senza pretese cioè non è che dicono ah sì no la luce però di qua e di là facciamo la cammina ma la scena non è mai vista vabbè vediamo la quadratura migliore in cui si vede la sborra che viene fuori ma l'estasi mistica sia poi un estasi tipo erotico lo dicevano già gli artisti post chiese riformate nel senso penso alla Santa Teresa del Fermini ad esempio proprio per fare i riferimenti generali in secondo luogo il film va bene avrà un bel montaggio è girato bene si ricorda certi video di certe performance di arte contemporanea e via discorrendo è una cosa di quel tipo lì forse non lo so poteva avere un senso all'interno di un contesto performativo negli anni 60 ma è proprio l'idea di pensare di avere una donna anzitutto rossa di capelli e poi che rimanda più becero degli immaginari coso virginale che fa quella roba allora io vedo una cosa del genere e penso passiamo ancora a livello dell'idea che ci eccita la suola sui fumetti e quell'altra cosa a cui abbiamo sempre dato il fianco che ha generato quella pletora di atrici come la Marilla Donat per chi se ne ricorda ecco detto proprio l'impatto del corpo infatti lei ha visto la candela e io la candela non non ho quasi vista cioè non c'è troppo subietente cioè e quindi è interessante nel senso evidentemente è curioso che il ruolo del maschio non venga mai interpellato è sempre molto secondario ma si maschile ma è visito cioè si vede dai non si può dire tutti i morti è messo l'uscita maschile no no io sto parlando del film ma di come è fatto cioè è curioso il fatto che se per dare ragione hanno fatto per dare ragione effettivamente il desiderio preso in conto è solo quello maschile tant'è che la donna può essere anche sola e nessuno si chiede perché non c'è un uomo un film simile un uomo che con queste luci riempito di olio si prende e si masturba cioè sarebbe completamente osceno per quando arriva la donna ci chiederemmo da uomini capito? ma quindi è giusto è vero? è una riflessione non volevo dire niente volevo semplicemente che esatto vi ricomponeste è molto importante ma quando si parla di desiderio è sempre un po' un casino e secondo me i termini che cosa vuole un uomo che cosa vuole una donna e qual è la pornografia da uomo che cosa vuole la pornografia da donna è sempre un po' difficile a trovarsi e un po' incasellare queste cose anche l'anno scorso si fece un appuntamento e c'è il pornoporno c'era una guerra dei generi e con la guerra dei generi si erano proposti due videoporno ognuno che doveva essere collegato all'immaginario di genere esatto e poi alla fine è venuto fuori che nessuno dei due apparteneva cioè si erano un po' subvertito questo è molto interessante non lo so non lo so aveva una fica bellissima quella è vero lei è un'attrice assolutamente concentrata per fare quella è un'attrice poca si è tutto studiato è vero nel senso il fatto che comunque c'è richiamato certi immaginario che io da maschio ogni tanto ho riconosciuto nel senso quella cosa lì oggettivamente se mi eccita mi eccita appunto nel senso allora è anche questo il discorso che è interessante nel senso che cosa cioè dobbiamo demonizzare un elemento di situazione no nel senso poi il discorso nostro in termini più estetici ma comunque a parte questo noi torneremo qui alla fine di gennaio con il cinepornaforum e motivo per cui allora piccola devo fare soltanto due piccole questioni allora una è che vi devo lasciare l'indirizzo email del teatro che è info chiocciolateatrogarabato punto it vi invito ad andare su internet a cercare teatro garabato se non vi ricordate di mail eccetera comunque seguiteci e se avete delle idee delle proposte che possono essere nel migliore dei casi come è stato questa sera con il più ricco materiale vostro ma se avete anche delle proposte delle idee come appunto è stato il caso di Alessandra ben venga nel senso noi vi accoglieremo nel senso e tra l'altro ecco vorrei chiedere in questo caso a Chiara secondo te il prossimo appuntamento del Cine Porno Forum visto la direzione in cui è andata la discussione quale sarà? il tema? si oh mamma mia potrebbe essere la pornografia diretta da donne porno per più diretta da donne tu cosa ne pensi? esiste esiste ragazzi resimando tutti io questo è fatto da una donna dei progetti interessanti la kink.com le ragazze del porno c'è una regista che fa solo filmati porno con donne che vogliono essere scopate da un sacco di uomini cioè lei fa avverare queste fantasie e quindi non sono attrici vere e proprie però sono gente che va lì e dice sei via questa fantasia qua lei che è una regista monta tutto fa tutte le cose che non gli uomini con le situazioni liberate dalla donna esiste una corrente abbastanza contemporanea della regia pornografica di cui le ragazze del porno è uno dei collettivi tra i due attesi ho qua per le quali il porno non viene girato necessariamente per l'eccitazione del maschio cioè quello che dicevo prima questo secondo porno è evidentemente girato per fare eccitare un pubblico maschile cioè ci sono proprio dei connotati che sono fatti per eccitare un genere però aspetta la regia femminile può essere assolutamente direzionata da un pubblico maschile esiste un porno per il pubblico femminile che è una roba che non è per nulla ma guarda se volete io vi porto dei film di lesbiche girate da lesbiche per lesbiche e ti assicuro che sono peggio cioè sono delle cose pesate posso creare cioè alla fine è sempre lì siamo non è che ma questa mi sembra una banalizzazione è veramente imperante che non mi sento di ridere nel senso che se io mi astraggo da alcune cose cioè mi sembra veramente banale poter dire che negli ultimi mille anni di evoluzioni eccitano sempre le stesse cose altrimenti alcuni canali non si sarebbero neanche sviluppati cioè detto onestamente ci sarebbe stata la donna a servizio del loro sempre cose che io non faccio nella realtà dire che le cose siano immutate che siano sempre la stessa cosa mi sembra un po' eccessivo perché altrimenti determinate proprio come dire determinate inclinazioni sessuali non si sarebbero potute sviluppare se fosse rimasto tutto immutato cioè non ci sarebbe stata un'evoluzione né sessuale né di genere saremmo rimasti lì monolitici quindi è impossibile che la sessualità dell'uomo non sia sviluppata in una determinata direzione piuttosto che in un'altra potrebbe essere interessante vedere potrebbe pensare e farci parte non sono emancipati anche nell'immaginario nel senso che quindi magari molto spesso nel senso è più facile comunicare le cose in una maniera che eccita subito che nessuno si lamenta ecco questa è un'ottima sensazione ma potrebbe essere che la questione fortemente politica per cui le cose non sono veramente cambiate è che tutto è infine all'orgasmo cioè se ci pensi ogni volta guardi un porno è l'unica roba che guardi con un fine quasi da ricetta cioè speri che la ricetta ti venga cioè ti guardi un porno per l'assorbare cioè questo è l'unico mezzo cioè l'unico ma non è la stessa cosa che ti fa raggiungere l'orgasmo no no però ho capito ho capito però voglio dire forse il problema è proprio che bisogna cioè che poi l'approccio è sempre quello fondamentalmente da consumatori no invece forse l'eccitazione anche nei film potrebbe essere sviluppata per andare oltre cioè la tematica sarà l'orgasmo ok l'orgasmo sarà la tematica che tratteremo il prossimo Cine Pornoporum il 20 di gennaio tipo no il 20 di gennaio non so era così per fare una fattura ok nel senso quindi nel senso se avete delle proposte sull'orgasmo per favore mandatecele per favore mandatecele anche tu Carlo che stai facendo questo video qualcuno lo vedrà su Vimeo fra qualche giorno per favore mandateci il materiale sull'orgasmo ti prego così ok facciamo girare questo sull'orgasmo Grazie.